Ho preso il lievito madre da mantenimento che era in acqua, l'ho privato della parte della buccia che era quella parte superiore, ho preparato dell'acqua a 38 gradi, ogni litro d'acqua 2 grammi di zucchero, qui ci sono circa 4 litri d'acqua, e ho preso il mio lievito, l'ho messo all'interno dell'acqua calda e adesso per 20 minuti lo lascio a riposare in questa acqua calda. L'acqua mi vecolerà fuori l'acidità a favore di un profumo più aromatico e più dolce.